Un minuto, un solo minuto per ascoltare, guardare, riflettere, tutto in italiano. State facendo una passeggiata, camminate a piedi, attraversate, davanti a uno stop. Una macchina non si ferma e vi urta, vi fa un po' di male, ve ne potrebbe fare davvero molto, ma fortunatamente avete i riflessi pronti e vi fa solo un po' di male. L'avete proprio scampata per un pelo, ma come reagireste? Sareste felici per come sono andate le cose, oppure vi arrabbiereste tantissimo? Questo è l'ultimo video dell'anno, perciò i miei migliori auguri per il 2020. Grazie. 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 Grazie.